La zona è lontana dal campo, non perdere la pazienza ma con una conduzione migliore. Qui perfetto Murillo, scocchezza, si fa tutto il campo e poi la spara in porta, 4-2, era quello che si arriva in uscita dal time out. Oltre ad aver superato la penalina nessuno è andato a effettuare fallo, il ritardo Onorio, il ritardo Tobbe da 10 metri per Murillo è stato un'ottima. Ancora entrare in partita nella fase di possesso. E seguiamolo però Murillo con il vantaggio della Kame Dosson, un vantaggio che tra poco potremo riapprezzare grazie al nostro Roberto Cambuti in regia. L'1-0 della Kame Dosson, queste sono i festeggiamenti con Silvio Rocia e tutto il suo, la sua rosa, tutti i giocatori della panchina. Andiamo a rivedere la prima conclusione, ricordi e sottomisura, Murillo per il vantaggio della Kame Dosson, 1-0, minuti 11 nel corso della prima. Andiamo a rivedere la prima. Preparano schema, una serie di giravolte di giocatori della Kame, la palle per Murillo Schiocche va col sinistro e trova l'angolino perfetto, Murillo Schiocche è 2-0 Kame dopo soli 47 secondi del secondo tempo. Kame 2-0 Kame 2-0 Kame 2-0 Ieri c'è stato bisogno di lui, della sua esperienza per riaprire la partita, per portare in vantaggio la squadra di Silvio Rocia, adesso tocca il pallone e realizza, sono stato un buon profeta, l'ho detto, e ha messo un altro pallone a togliere la ragnatele. La Kame Dosson c'è, è 4-1 Perfetto l'assist di Thiago Grippi, Murillo Ciao, voglia rispetto... Ciao, voglia rispetto... Ciao, voglia rispetto... La luce è la ventura!